Ciao, sono Jennifer, ho 28 anni, vivo a Torino da due anni e mezzo e sono sposata qui. Mi piace il trucco, i social network, è il mio programma preferito per passare il fine di settimana e guardare un film, conosco il cinema di Lingotto e sono interessata ad avere un'opportunità di lavoro qui in Italia. Mi piace tantissimo il servizio al cliente, in questo momento lavoro come freelance e sono interessata in un lavoro part time per conoscere più persone.